Una persona potrebbe così, per logica dire, ragionare in questi termini, ma il centro dovrebbe essere il biglietto da visita di una città e magari dovrebbe essere, come dire, più appetibile, più presentabile rispetto ad altre zone. Così non è a Taranto. Il centro e le periferie versano nel medesimo stato di degrado. È un quadro che veramente crea sconforto. Vari cittadini mi hanno segnalato la situazione di Via Acclavio, una zona centralissima, una strada che poi portano scendendo verso, vedete, il lungomare, quindi una zona fantastica. Guardate come si trova il manto stradale. Manto stradale perché le varie ditte vengono, eseguono i lavori, scassano e poi non si degnano neanche di mettere un po' di asfalto, neanche quello. Si rimane al cemento. Guardate, questo è cemento e rimane così per mesi e per anni. Guardate, primo scasso qui, poi tutto trasversalmente e qui vedete altro scasso, vedete la linea. Qui è stata messa una linguetta di asfalto messa con i piedi, tant'è vero che, vedete, si sta sgretolando e sta sprofondando. Ecco, quando dico sprofondando, guardate qui. Ma basta che facciamo, percorriamo qualche metro e guardate che altro scempio si presenta alla nostra vista. Ovviamente questa è una città che sembra un cantiere vivente. I cittadini di Via Clavio, come di altre vie, non prendono pace perché poi questi lavori programmati in maniera scriteriata congestionano e soffocano il traffico. Ma guardate qui, i promontori dell'asfalto, guardate, questo asfalto messo proprio con i piedi, qui addirittura interrati questi famosi tubi dell'acquedotto, guardate, e qui ovviamente dossi, cunette, chiamateli come volete, messe malissimo, guardate, perché qui si sta sgretolando, guardate, proprio l'asfalto come si sbriciola e qui ovviamente neanche l'asfalto, il cemento. Guardate, se è possibile una cosa del genere, anche lì di fronte, la prosecuzione di Via Clavio adiacente appunto ai mattoni. Per non parlare, poi guardate, guardate, io non penso che le mie immagini, le mie parole siano, le mie immagini siano più eloquenti delle parole, guardate, guardate i rischi che si trovano qui per una persona che scende dal marciapiede doveva finire su un tubo, doveva finire su un tubo, boh, qui neanche ci si è degnati di mettere l'asfalto e potremmo proseguire di questo passo. Altro fatto grave è che in questa strada, purtroppo, come in altre d'altronde, ma qui mi è stato segnalato il fatto delle deiezioni canine, ossia tanti padroni di cani sono dei grandi porci, non degli sporcaccioni, dei grandi porci, perché pensano che i cani possano fare i loro bisogni in assoluta tranquillità, tanto chi se ne frega, nessuno li controlla. E allora anche qui la funzione dell'amministrazione. Melucci, Assessore Ciracci, mandate i vigili in borghese, andate a prendere con le mani nella marmellata, scusatemi l'espressione, dovrei dire nella merda, coloro i quali lasciano defecare tranquillamente i propri cani. Io non ce l'ho con i cani, massimo rispetto, ce l'ho con quegli incivili dei padroni che non usano la paletta. Allora se noi bastoniamo, in senso metaforico, a botte di multe questi incivili, forse, forse metterebbero il giudizio, metterebbero il sentimento, come si suol dire a Taranto. Beh, vi ho voluto parlare di una situazione strana, strana perché è una zona centralissima, però guardate in che stato si trova, guardate. Questo è il centro o è una periferia? Se noi chiudiamo gli occhi a un certo punto e giocassimo a Indovinello, potremmo dire ai cittadini dove ci troviamo e uno potrebbe dire, potremmo chiedere a un qualsiasi cittadino, non necessariamente di Taranto, sarà una zona abbandonata, una zona periferica. No, no, è il centro di Taranto, a due passi dal lungomare. Questa, signori cari, è la rinascita dell'amministrazione Melucci, un'amministrazione in cui le ditte fanno di tutto, di più e nessuno controlla né uffici tecnici né assessorati a ramo. Vero Mattiaggiorno? Dove sono i controlli Mattiaggiorno, assessorare i lavori pubblici? Dove sono? Guarda, guarda, è qui. Mattiaggiorno dice che devono passare sei mesi, qua sono passati anni, ma statevi zitti per cortesia, statevi solamente zitti e levatevi da mezzo per il bene di Taranto. Dimettetevi, togliete il disturbo, noi cittadini abbiamo le palle piene di questa disorganizzazione e di questi disastri amministrativi. Scusate la volgarità, ma quando ci vuole, ci vuole.